53 studenti di 9 scuole medie superiori del Piemonte hanno partecipato al viaggio studio in Emilia. Si tratta del secondo gruppo di vincitori del concorso di storia contemporanea 2012-2013, promosso dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione, in collaborazione con le province piemontesi e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Le tappe principali del tour sono state a Gattico il Museo Cervi, il Museo Monumento del Deportato di Carpi e l'ex campo di concentramento di Fossoli.